La situazione pandemica ha portato con sé numerosi disagi e difficoltà che hanno colpito anche il quartiere di Poderino di Fano, dove persone e famiglie si sono trovate a dover far fronte a nuove forme di povertà, sia economica che relazionale. Per questo motivo la carità sparrocchiale di San Pio X, assieme all'associazione Vivere il Poderino, hanno dato vita al progetto Facciamo Rete per una comunità più solidale, per organizzare un sistema di ascolto diffuso sul territorio ricco di situazioni di difficoltà invisibili da intercettare e risolvere. Negli ultimi tempi, infatti, il quartiere sta vivendo un particolare momento di spopolamento di attività, come macellaio, pasta fresca e rosticceria, ma anche di servizi come di cole banca, che si ripercuote pesantemente sulle fasce più deboli e sugli anziani. Vi è anche il problema del disagio adolescenziale, la difficoltà ad avere spazi locali accoglienti per l'intera comunità. Obiettivo del progetto, quindi, è aprire lo sguardo e il cuore per accogliere i disagi anche nei piccoli segni e per riuscire così, dove sia possibile, a mettere in atto strategie di vicinanza e aiuto concrete per tutto il quartiere. Ci siamo accorti che i centri di ascolto, così come sono organizzati nella diocesi, non sono in grado di raggiungere tutti e purtroppo sono l'ultima spiaggia di chi è in difficoltà. Serviva quindi impostare un ascolto diverso diffuso sul territorio, ha spiegato Roberto Ansuini, volontario Caritas. Abbiamo appunto pensato di creare una rete territoriale con tutte le figure che sono presenti nel territorio, dai negozianti ai medici, alla farmacia, alla scuola, alle associazioni sportive, che hanno un ruolo non indifferente, non solo sportivo, ma anche sociale ed educativo, e i volontari di condominio e tutti coloro che possono essere disponibili a lavorare con noi in rete. Lavorare in rete significa anche creare poi una comunità, una comunità solidale, una comunità dedita alla prossimità e all'accoglienza dell'altro. Ovviamente questo non vuole essere una struttura molto organizzata e strutturata, ma deve essere una sorta di welfare non formale che si rifaccia certamente all'impegno sociale, ma che sia ispirato dalla pastorale della carità. Per questo sono stati attivati i due punti di ascolto per chi si trova in difficoltà o conosce situazioni di disagio, ancora, per chi vuole collaborare al progetto. Il primo, situato presso la Caritas San Pio X, attivo il martedì dalle 16.30 alle 17.30, e il secondo all'associazione Vivere il Poderino, aperto il venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Inoltre è stato attivato anche un numero dedicato. La prima iniziativa del progetto è stata il tutto sospeso, ha spiegato Ansuini, grazie alla quale chi vorrà potrà acquistare nei negozi del quartiere dei buoni spesa da 2,50, 5 o 10 euro destinati ai più bisognosi. Il farmaco sospeso è un'esigenza, è un'iniziativa che andrà a sostenere l'acquisto di farmaci da banco per le famiglie in difficoltà. La carne è sospesa perché anche noi come Caritas che aiutiamo, diciamo, quotidianamente col pacco alimentare le famiglie, però difficilmente riusciamo a dare della carne o comunque del materiale fresco. La stessa cosa per il pasto sospeso che abbiamo fatto con l'Emporio A.E., con la cooperativa Contatto, dove appunto con questi buoni sarà possibile fornire qualche volta un pasto alle famiglie in difficoltà.